La collaborazione tra Stato e Chiesa nell'educazione, nella sanità e nella lotta alla povertà, i conflitti e i processi di pace nell'Africa del Sud e centrale sono stati al centro del colloquio tra Papa Francesco e il Presidente dello Zambia, Edgar Chattva Lungu. Il Papa e i suoi ospite hanno parlato del contributo della Chiesa Cattolica allo sviluppo del Paese attraverso le sue istituzioni di carattere educativo, sociale e sanitario e della collaborazione nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali e nella promozione di una pacifica convivenza sociale e religiosa attraverso la cultura del dialogo e dell'incontro. Hanno affrontato anche i temi delle migrazioni, dei cambiamenti climatici e della tutela dell'ambiente. Infine il Papa e il Presidente dello Zambia hanno parlato della situazione internazionale con speciale attenzione ai conflitti che interessano alcune aree dell'Africa e all'impegno del Paese nei processi di pace nella regione.